Ciao ragazze, benvenuti al solito appuntamento mensile dei preferiti del mese, questo mese di novembre Prima di iniziare vi voglio parlare di un sito che produce le collanine carry, le famosissime collanine carry ovvero quelle collanine con il nome Il sito si chiama collanaconnome.com E insomma, fa delle collanine molto molto graziose Ve la volevo mostrare perché può essere un'idea come regalo di Natale per un'amica, per se stessi, per la sorella, per la mamma Sono molto graziose e devo dire di ottima qualità Non pensavo assolutamente che la qualità fosse così alta Allora, questa è la scatolina dove vi arriverà insomma la collana Vi sono sincera, a me mi è stato anche proposto di fare la collana con il nome del mio canale Ma sinceramente la trovo una cosa ridicola L'ho vista fare da altri youtuber, non faccio nomi perché insomma non sono il tipo Però la trovo una cosa ridicola Nessuno metterebbe su una collana con il nome di un'altra persona Cioè se non il proprio, secondo me E quindi ho detto sinceramente non mi va, la trovo una ridicolata Preferisco o che mi fate un codice sconto O non lo so E loro mi hanno questo codice sconto Per le ragazze insomma che decidono di acquistare la collana o qualche altro prodotto Perché oltre a queste collanine qui fa altri articoli Sempre con i nomi personalizzabili E quindi mi sono fatta fare questo codice sconto del 10% Perché vi dico la verità Con il mio nome del canale Non mi sento di regalarla Perché io personalmente non metterei mai la collana con su scritto Clio O che ne so Eleonora Con tutto che adoro Eleonora Però metterei la collana E anche Clio voglio dire Metterei la collana con il mio nome Cioè è ovvio Comunque Il continuo non mi voglio perdere in chiacchiere Spero insomma che Capite quello che C'è il mio ragionamento Non mi fraintendete La trovo una cosa ridicola La collana con su scritto Monabanni 88 Non ve la regalerei mai sinceramente Allora la scatolina è questa qui È molto carina Perché è un color avorio perlato Molto molto graziosa Quindi vi ripeto Davvero carino come del di Natale Si apre in questo modo Ovviamente qui viene presentata meglio la collana Perché tiene i passanti Dove inserire la collana Io per comodità la tengo buttata qua dentro Così faccio prima La collana che ho scelto È in oro rosa Ve la faccio vedere Anche se vi ho messo La foto su Facebook e Instagram Devo dire che ha riscosso Un successo Tra i miei amici I clienti che vengono al negozio Davvero poco indifferente Anzi mi hanno chiesto persino L'orefice Dove l'ho fatta fare In realtà voglio dire Questo sito produce Con la linea Bracciali Portachiavi Compersonalizzabili E sono davvero di altissima qualità Comunque è 40 cm La lunghezza è giusta Secondo me Fa anche varie lunghezze Però questa qui è la classica Vedete Vi arriva praticamente Qua Vedete com'è bellina Fa un bellissimo effetto E questa qui Costerebbe sul sito O 36,67 euro O 39,67 euro Non mi ricordo Però vi lascio il link Al modello Di questa collana Fa anche collane più economiche Dai 24 ai 27 euro In argento Queste qui Dorate E di oro rosa Perché loro dicono Che sono laccate di oro rosa Costano un po' in più Allora Dove Innanzitutto è di ottima qualità La cosa che mi ha stupito E io vedo Se un accessorio È di buona qualità o meno È quando Io indosso molto il profumo E quando che ne so Metto degli orecchini O la collana E mi scordo E mi spruzzo sul profumo Praticamente innanzitutto Iniziano a puzzare Non so se vi è capitato Di rottame Non so come Di ferro E poi si scoloriscono E si fanno verdi O si toglie insomma Il colore Dall'accessorio Questa qui non ha fatto una grinza Sempre perfetta Sempre luminosissima Davvero Ottima Ottima Qualità Vi lascio giù nell'info box Il sito Di collana con nome E il codice sconto Che mi hanno fatto Del 10% Per voi La trovo una cosa Molto utile Anche per un pensierino Tra l'altro Ho visto Che garantiscono La consegna Il giorno di Natale Per il Natale Insomma Se voi andate Ad ordinare Vi arriva In questo sacchetto Dall'Israele Vi faccio vedere Anche poi loro Cosa mi hanno mandato Molto gentili Devo dire la verità Copro il mio indirizzo Vi arrivi in questo sacchetto Dall'Israele Come potete leggere Vi chiederà di firmare Il postino A me è firmato Mio padre Che stava al negozio Comunque una raccomandata Quindi non va perso Non vi preoccupate Dovete firmare voi Poi all'interno Ho trovato Questo sacchettino Graziosissimo Con praticamente Giulia Che mi ringrazia Di aver collaborato Con loro E mi manda Anche questo portachiavi Graziosissimo Con scritto amore Che regalerò Al mio fidanzato E' molto molto carina Giulia è stata Gentilissima Davvero E niente Adesso Allora ragazzi Io la penso così Per la collana Sinceramente Non mi andava Di regalarvi La collana Col nome del mio canale Perché io non sono Praticamente nessuno Quindi Fatemi sapere Se la pensate come me O in maniera diversa Io la vedo così Allora Adesso Inizio subito Con il video Dei preferiti E vi faccio vedere I preferiti Di questo mese Allora In realtà Alcuni Li sto usando con piacere Per smaltirli Altri un po' meno Allora Due prodotti Che sto usando Con piacere E che voglio smaltire Perché come vedete La crema E' arrivata Quasi ai minimi termini Il fondotinta Anche Non si vede Perché L'ho mosso Insomma Perché l'ho indossato Adesso E anche la crema E sono questi Due prodotti Della Xea Che sono consigliati Soprattutto per le ragazze Che hanno la pelle Mista o grazza Con Insomma Qualche imperfezione Qualche brufoletto Che tende all'acne Cioè La pelle acneica Io non ho di questi problemi Però la crema Ad esempio La utilizzo Per prevenire Le imperfezioni Qualche piccolo Brufoletto sotto pelle E lo stesso Praticamente Faccio del fondotinta Che ha le stesse proprietà Della crema E sono molto buoni Per correttezza Questi due prodotti Mi sono stati inviati Gentilmente Dall'azienda Quindi Ve lo dico Se siete interessate Vi lascio giù Nell'info box Il link Al sito di Xea Sono prodotti Senza parabeni E senza coloranti Sono clinicamente testati Si vendono anche in farmacia Quindi davvero Sono prodotti Di ottima qualità Il fondotinta È da 30 ml Di prodotto E La crema È da 50 ml Di prodotto Il fondotinta 12 mesi di scadenza E la crema Lo stesso E Il colore Del mio fondotinta È Il 213 Honey Look Fa anche Altre colorazioni E il colore Che vedete Che è questo E questo qui Praticamente E le ho utilizzate Anche per questo trucco Sia la crema Che il fondo Poi Altri due prodotti Che sto smaltendo Uno che praticamente Sto buttando il sangue Il vero senso della parola Per smaltirlo Perché lo odio Lo odio Con tutta me stessa È questo fondotinta Di Avon Fa schifo Risulta pesante Sul viso Vi rende il viso Grasso E appiccicoso Cioè Quando voi andate A salutare qualcuno O sembrate Praticamente Che state sudate Appiccicaticce È qualcosa di Bruttissimo Poi quando Praticamente Andate Sì Una cosa che ho notato Dovete tamponarlo bene Con la cipria Perché sennò Vi lascia delle strisce No è orrendo Davvero orrendo Non ve lo consiglio Io l'ho pagato In salto Fortunatamente 2,50 euro Come gli altri prodotti Di questa linea Color trend Che devo dire Sono buoni Come la cipria Che ho adesso Sul viso E i rossetti Della linea Color trend Di Avon Ma questo fondotinta Fa schifo Fa pena proprio E ha una scadenza Da 24 mesi Ed era 30 ml Di prodotto Sono molto tentata A buttarlo Però mi dispiace Comunque ci ho speso Dei soldi E' peccato Insomma Buttare i prodotti Così Anche se Lo sto usando Davvero A fatica Scusate Sto sempre Inguaiata E niente Un altro preferito Per modo di dire Del mese Perché veramente Lo sto utilizzando Per terminarlo Lo stesso vale Per questo fondotinta Qui Della essence Della linea Pure skin E' il 02 Sand Sand E Questo qui E' un fondotinta Per pelli miste E grasse Io l'ho preso Perché Mi piace molto Il fondotinta Che lascia Un effetto matto Al viso Sia come Quello lì di Xea Perché comunque Studiato per pelli miste E fa un bellissimo Effetto matto Io ho una pelle secca Quindi Completamente diversa Dalla tipologia Di pelle Per cui questo prodotto E' consigliato Però insomma Li compro Principalmente Per il finish Questo qui Mi piace abbastanza E' da considerare Più una BB cream Per me Perché non copre Molto bene Non dura nemmeno Tanto Cioè a fine serata Non avete niente È garantito E la cosa Che non mi piace Principalmente Di questo prodotto È l'odore E la durata Perché Come odore Sembra una medicina Qualcosa di chimico Bruttissimo Che vi rimane anche sul viso Tra l'altro E poi Non ha una buonissima durata Quindi per questo Sto decidendo Di terminarlo Anche perché Perché tengo Tutte queste confezioni A metà Tra il finito E il meno Ho detto Vabbè Mi ci metto Li finisco Così posso comprare Anche qualche altro prodotto E provare Qualche altro prodotto Che avere Lo spazio In cassettiere Occupato Da queste confezioni Che non hanno Né capo Né coda Dico io Poi altri due prodotti Che sto smaltendo Sono Questo campioncino Di mascara Volume extra black Con vitamina E Proteine Di bottega verde Che mi hanno mandato Tramite quelle promozioni Che fanno I campioni Gratuiti Su facebook E praticamente Mi hanno mandato Un campione Da 8 ml Di prodotto Non so Il full size Di questo mascara Com'è Comunque lo sto smaltendo Perché ce l'ho da tempo Allora Devo dire Che l'extra black C'è per davvero L'unica cosa È che secondo me Non volumizza Ne allunga le ciglia Quindi dovete sempre Andare ad utilizzare Un top coat sopra In questo caso Io ci metto su Quello di Kiko Viola Per dare più volume Alle ciglia Perché non è che Fa granché Mi piace Perché davvero È un extra black Molto molto bello Come prodotto Lo sto terminando Vi ripeto Perché è un campioncino E Sa lì da parecchio Un altro prodotto Che mi sto mettendo Sotto A terminarlo Ad utilizzarlo È questo Mascara Di Maybelline Della linea My M M N Y Cioè La linea Per ragazze Diciamo Tipo New York Color Che è Rimmel Questa qui È la linea Di Maybelline Da ragazza Praticamente Questo sarebbe Un mascara Faccio vedere Lo scovolino Che praticamente È la metà Del mio occhio Sai vedete È minuscolo Sembra un piccolo mascara Per le bambine E l'utilizzo Praticamente Per le ciglia Inferiori Perché è piccolino E come vedete Non mi sporco Neanche Lo sto finendo Anche perché sotto Le ciglia Le ciglia E le ciglia Superiori Come ho detto Le ciglia Inferiori Praticamente Fa un bellissimo Effetto Per Come mascara Verre proprio Non fa Niente Zero Totale Ma perché Vi ripeto Secondo me È un mascara Per le bambine Adoro il packaging Perché è simpaticissimo Rosa Con Il 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 Tappino Verde Però vi ripeto È secondo me Un mascara Per Le bambine Ma non per Le ragazze Insomma Per le ragazze È troppo piccolo Lo scovolino Fortunatamente L'ho pagato Tre euro Alla bancarella Quella lì Che tiene I prodotti Quelli confezionati Come vi ho detto Della Rimmel O della Maybelline Da supermercato Per intenderci Con quelle confezioni Di plastica L'ho pagato tre euro Quindi non è Quei chissà Che grande spesa E voglio dire Non è che Cioè Ce li vale Perché Veramente Fa delle scia Molto belle Sotto Però Come mascara Vero e proprio Non vale niente Ed è lo 040 Poi Un altro prodotto Altri prodotti preferiti Vi faccio vedere Questo matitone Di essence Che sto amando Letteralmente Ed è Lo Stays No matter what Nella colorazione 08 Chocolate brownie È un colore Bellissimo Come potete vedere Sta ai minimi termini Perché Ha un colore Davvero fantastico L'utilizzo per tutto Come riga di eyeliner Come ombretto Da sfumare Come Praticamente Lo sfumo Nella piega Come matitone Come matita All'interno Dell'occhio Nella rima interna Ce lo uso davvero Per tutto È un colore Paspartout Secondo me Va bene Con qualsiasi Tipo di trucco È troppo Troppo bello Si sfuma Facilmente Quindi Lo potete utilizzare Anche come Ombretto Su tutta la La palpebra mobile Io ho fatto anche questo Vi ripeto Lo adoro E costa 3,10 euro E Fantastico È un prodotto Secondo me Che essence Ha Preso in pieno Nella Nella collezione Permanente Cioè ci voleva Un prodotto Del genere Poi Un altro prodotto Che mi piace tantissimo Ho fatto il mio primo ordine Alla Yves Rocher Tramite una mia amica Perché di Salerno Io metto Nell'info box La pagina facebook Di Cristina Che Ha iniziato a fare La rappresentante Della Yves Rocher E ho preso Delle cosine Che poi vi mostrerò Anche nel video Dei promossi e bozzati Nei preferiti C'è lui C'è questo rossettino Della Yves Rocher Ed è Il Il 42 Wrongway Non mi ricordo Il colore Ve lo Me l'avete chiesto Anche su facebook Molte di voi Il colore di questo Mauve Se non sbaglio È il come colore In ogni caso Ve lo scrivo Nell'info box Ed è Come potete vedere Un colore Bellissimo Ed è quello Che ho sulle labbra Poi tra le altre cose Dura tantissimo Questo rossetto Cioè io sono rimasta Sconvolta E ha un finish Come potete vedere Molto sheer Però Colora le labbra Da un effetto Molto naturale Molto elegante Secondo me Le labbra Ha un costo Di 4 euro E 95 4 euro e 50 Perché questa qui È la linea economica Della Yves Rocher Perché sinceramente Conviene comprare Più i prodotti Come creme Shampoo Balsami Per i capelli Sul catalogo Che il make up Che costa un pochettino In più Rispetto al negozio Che potete utilizzare La scheda E pagare Insomma di meno Quindi ho preso Questo rossettino Che però Devo dire la verità Prenderò Altri colori Perché mi piace molto Ed è duraturo Nonostante il finish Quindi Stragonsigliato Vi lascio per esempio Le labbra colorate Davvero buono Io non avevo prodotti Della Della Yves Rocher A livello di make up Quindi sono rimasta Sbigottita Questo qui È 3.5 grammi Di prodotto Ed ha una scadenza Di 12 mesi Non vi fate ingannare Dal packaging Che sembra Cioè grande Quanto al mio mignolo Ne devi conto Ma È Ha più Ha più prodotto Dei rossetti Della New York Color Quindi voglio dire Il packaging È Per comodità Che è così piccolo Non è che c'è Poco prodotto All'interno Poi Altri prodotti Che sto utilizzando Tanto Sempre per labbra Sono Le acqua rouge Di make up forever Mi ci trovo divinamente Perché durano Una vita sana Cioè una vita intera Anzi Dovete anche Stare lì A scartavetrarvi Le labbra Per toglierli Perché davvero Sono davvero Super super duratori L'unica pecca Che seccano un pochettino Le labbra Quindi dovete utilizzare I balsami Sotto l'oro E insomma Utilizzo tutte e quattro Le colorazioni E mi ci trovo Divinamente E sono L'acqua rouge Di Make up forever Che ultimamente Sto utilizzando Davvero tanto Sono molto molto comodi Sono confortevoli Utilizzando anche Il balsamino Sulle labbra Quindi Straconsigliati E come ultimo prodotto Come non nominare Lei La Pretty Rebel Ve la faccio vedere Ancora una volta Ve ne ho già parlato In un video È troppo troppo bella Ha dei colori Spettacoli Spettacolo E Senza parole Davvero Questa palette È fantastica La pigmentazione È altissima Di questa palette Non è per niente Polverosa È qualcosa Di fantastico Non rischiate Il full up Del prodotto Davvero Ottimo Ottimo prodotto Sono Estasiata Da questa palette Di Too Faced E la sto utilizzando Sempre Anche se Utilizzo Che ne so Solo un colore Di questa palette Vado sempre Ad utilizzare In particolare Sto utilizzando Molto Sherming Nelle pieghe Sotto O Miss Sparkles Perché è un nero Intensissimo Troppo Troppo Bello Se vi siete persi Il link Cioè se vi siete persi Il video In collaborazione Con Eleonora Dove vi parliamo Di Questa palette E Vi facciamo vedere Anche gli swatch Vi lascio giù Nell'info box Il link Al video In collaborazione Con Eleonora Dove vi parlo Di questa meraviglia E niente E niente ragazze Questo è quanto Io vi mando Un forte bacio E ci vediamo Prestissimo Nel prossimo video Ciao ragazze Ciao ragazze Ciao ragazze Ciao ragazze Ciao ragazze Ciao ragazze